Il me va giù, ta le lā ta le lā ta la Il me va giù, ta le lā ta la Il me va giù, ta le lā ta le lā ta Oh paga te! Tosito il moua sha Funki 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 Va bene Mario Va bene Mario In la sala di minuto Tollo man skillso Ello manso pello Ello started No 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 Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti e tutti. Non, non, ma a te pari quando vieni, tra te pare le sixty? Non, troppo, non, mi sei che tu fai fatto la pelle, non mi ne vieni, non ti capi Non vieni Con la biocchetta Il proverso per mi è che i te senti a 17 anni per un po' di sicurezza per fare la teore Questo è l'introduzione E spero che il dimagina Sì, eri eri eris Pona storia, eri 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 Ah, non è eri 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 ma sono un po' di più non c'è nulla sono lì fuffo Lala sono tuoi la mano fuffo Lala le mobo è lì mi permette di essere così non ho bisogno di essere non ho bisogno di essere non vuoi ma cosa? non ho bisogno di sale ma cosa è questo perché la congente la cosa è una cosa che ti amo come tui non è una cosa ma è che ciò che ciò che dovrebbe comprendere alcune cose oh papà ok come 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 non no ma son is sua Non tanto ne ha niente per questa, non ne ha nessuno? Oddio? Oddio? Oddio! Oddio? Oddio? Rami, Rami, che mi torna allare in un mondo dal fatto per la nonna? Non, ok? Una provkinza che è il fa diительно informerci Se così ci sono volute Hai capito, tutti stavi L'avisbolso non Davide Non ti ob朵ole con te le mie Inanna Se una volta non è la sala Stimti the only Un po' il traline Fuori qui poteva Los non Ara ora ora ora? Non, bimatin papa. Eh oh bimatin? Ni fa? Ah mamma? Asseglie? Arrivi. Nabi Massalo è sola se va so với quella minisca, non non sape no. Va Sonia, non sape la tata o vi faccia o vila, il dira e sondu. Si tu fai la sera sola si te riesci. Non, non ti ho soele. Ti ci raci? Tu as la mia mia. Tu as la mia? Non, 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 non. attenzione No. C'è la mia mia vissata. Ancora che ciò che tià ha, perché va bene? E se, perché non sono il caso. Non, c'è il Diamon. E se ciò che si arriva? Si, non, nessuno le mi fa... Ahahahah! Ahahahah! Non, non, non le faccio di mio. Ed è il tuo solo a un po' di fame... C'est un po' di parole... C'est un po' di male, non? Non, non? C'est un po' di rosa che ti va avesse anche... Non c'est un po' di bambini, ho fatto io... Non c'est un po' di rosa che ti va a dite... non certo perché io penso che 60 anni non fermo perchè è quattro ma sì non non ma Adesso che nasce una buona stiamo solo Sai, hai �eno, Pass healami da qui lo guarda la stagione? Att intoleri del paio! Prends ребенuse! Musica come, ha Terra Don? E poi ecchia rowe, non c'est eveningsile No si è che se rara, non c'è personaggio! Mi ha meno ah 2, perché sa fiuata? Non, te so ne decimo ancora anche? inesi! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. we con le guion lui ma e e e e e e allora e 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Cosa essere la loro? Spero i nuovi minuti della str. Si voglio di rispondere la loro? La loro sunte sono ancora sempre. Cosa? Io so dieci... Cosa? Cosa ho troppo vita? Cosa è? Cosa? Non, non che sia già… Non, non? Non, non. Perché simile? Non, non. Quindi se penso in casa. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Che ti è quel comporta, le città di città di metti i conni? Descoltà di buonare, non c'è tu. Alla scolosa, non solo ti sono capace a caso, non tu hai mai 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 mai. Tu tai un po' che ti... Alla scolosa, ti senti un po' la tua città di vuota. Ciao non, non ti sono felice, non ti senti mai 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 mai? Il trompeza . . . . . . Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, ma la insieme è una cosa bella. Non, ma la insieme è un'occh dudesse, le bisognere. Ma cosa bella? Il mio sogno è un bambino! Il che era il mio caso ai venuto se ha un formato per da dibattire non ho una mamma non ho una piccola non ho una piccola non ho una mamma ma mia pagina non lo so 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non ma l'abbiamo. C'è proprio la stagione, non mi chiede direttamente a una flèche. Non ho sai la flèche. Non tu sai cosa? Desserti che mi chiedevo. Grazie a me, a fatto che io mi chiedevo, ho una bella. Non, perché? Non, perché ti dicevole che mi chiedevo dell'autogadale. Non, non ho! Non, non ho! Non, ho! C'est l'option! Non! Ti guarda io oggi, se non ti guarda tu. Ma quando? Ci sono 3 o 4 ore, ti guarda io. C Elsie che non lo tirano dai ma frate che cantano il matcha. Tu sei il m'empio, pappa il m'empio come tu es. Tu sei il m'empio, però bisogna capire una cosa. Za tante, la pezza, le naso ignorano il regno. Non, ma non, ma non, ma non, ma non. non si non. Soprattutto per la sapienza e come ti preparo, calmo la salvezcia Mi sono un po' azzolito, mi sono un po' inizia Mi sono un po' azzolito che ci soppre niente Perciò non ci sono? No, non ci sono C'è sempre, non ci sono due sflerci Ma cosa ti dice? Non, non ci sono un po' azzolito Non ci sono un po' maggi, ma non ci sono un po' azzolito E se ci sono qui ci sono Se ci sono le giovani Grazie! ma solina ma stagione david poteva di un vangia benino non c'est de la paria david poteau tout avec tout le respect le bimbo mais c'est à quand c'est à quand le mariage qui t'occupe le reste ça viendra ça viendra mais la vente là la vente la famille et moi c'est la vie moi si c'est que au miso en la catégorie avant vous à moi c'était il ya ça 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 je te dis vrai et mon âme Anna ma è ! C'est lui qui venne ? C'est lui qui vencli ora ! C'est lui qui venne. Tu lo fai dissi? Ma cosa c'est? Tu lases di Berndonga e il mio FMI. Ha mai! Tu commesati a giocare? Tu stas già con nessuno, non dove viva il fine, non ho bisogno. Ma c'est Mia Rosita. Voici qui posso. Non, 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 posso dir farla. Si non, 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 non. Non, non, mi dici l'agence. Non, 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 non. Ci si è una maman. Non, non, n'ai mica nessuno di un agence, non? No, non. Non, ora non abbiamo messo la scuola dicciosa. Si, non. Lui senza un bambino è un bambino e assedura. E andiamo? Non ce n'estai mai la mia mamma? Non ce n'estai mai la mia mamma? Non je ne l'ai mai avuto di la mia mamma? Si tu pui chiervendere il tuo tempo. Non ce n'est mai buono le tempo. Un pecusale ci ha fatto la mia mamma. Tu cercate bene bene? No. Non è tu fais un telefone? Mamma, non ci ne prendi questo. Ti ne fai mai chieste il tuo caso? Non! T nutzenio. Tu hai cont İtia? Ti senti ti chiede. Si tu le voces, tu lo soppi. Ci sono e un roma di essere un'altra zona. Non, ma è la scuola. Tu la le soppi. Tu l'as la scuola, lale sul è il e la con. Maman... Non per lo soppare, non per lo soppare! Non per lo soppare. Come andoui? Tu deine figze ti oltre�e oggi. Ma mia 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 miaâ professione. alphabetizzano lo hö curve. Mentre la vostra mia figlia? Non io. Dona lei. Deto sognato io io dicendo io tu chiedi Mami. Ciao, sono. Ci sono state? Ci trovi qui! Soli cosa became ma tasse anche. Cosa? Mi sono saluto. Quelle cosa accade? Cosa? Cosa? Cosa. Qu'è accaduto? Qu'è accaduto? Cosa? Cosa? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie a tutti.